Promuovere il vino e i prodotti tradizionali della Toscana, aiutare le imprese e favorire il commercio sia nei mercati tradizionali che in quelli emergenti verso la ripresa economica nell'anno difficile della pandemia di coronavirus. Questi gli obiettivi più importanti dell'accordo triennale rinnovato tra Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze per promuovere il settore agricolo e agroalimentare attraverso la programmazione di iniziative ed eventi. Primo fra tutti il Buy Wine Toscana ma poi la selezione regionale degli oli extravergini DOP-IGP, il Buy Food prima anteprima. La Regione ha integrato le risorse messe a disposizione prevedendo per il triennio 2021-2023 1.300.000 euro. Attraverso una collaborazione sempre più stretta con la Camera di Commercio che è su queste iniziative il nostro partner naturale direi, cerchiamo di comunque anche in tempi difficili, anche in tempi così complicati, di promuovere sui mercati internazionali sia quelli europei che quelli asiatici o americani i nostri prodotti di eccellenza che sono il vino prima di tutto ma che sono anche altri prodotti agroalimentari dall'olio, dalle anteprime fino appunto al Buy Food. La Camera di Commercio ha messo a disposizione l'esperienza trentennale di Promo Firenze nell'organizzazione di eventi anche nell'anno della pandemia. Il fatto che i nostri colleghi abbiano messo a punto un modello di manifestazioni, di mostre, di iniziative che permettano di conciliare la pandemia e un racconto della vendita nel mondo è un qualcosa che io vorrei che tutte le nostre imprese lo vedessero perché tutte si devono in questo momento, ahimè, adeguare a questo Stato. Il fatto che noi si possa esportare e fare delle fiere, che io so bene venendo da un'esperienza delle fiere cosa significa, e mandare prodotti a distanza, raccontarli da qua, farli assaggiare nei siti dei prodotti inviati e quindi vendere, è un modello ibrido, nuovo, che rappresenta anche la possibilità che le cose si possano fare anche in un contesto così complesso. Quest'anno quindi il Buy Wine sarà in modalità online, le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo. Grazie a tutti.